Fabiano, un bel derby, una bella setta di sport, tre punti preziosissimi. Sì, prima di tutto voglio dire che è stata una bellissima partita, bellissimo spettacolo anche sugli spalti, una bella emozione. Sono tre punti importanti contro una squadra probabilmente la più in forma del campionato in questo momento. Ci ha messo veramente in difficoltà e sapevamo che hanno un potenziale offensivo veramente importante, però ci siamo comportati molto molto bene e ci portiamo a casa questi tre punti importantissimi. Siete stati anche quest'oggi particolarmente lucidi sul pezzo per tutta la gara. Sì, non è stata magari una partita, abbiamo fatto partite migliori, sicuramente a livello di palleggio e tutto, però bisogna anche dar merito a questo Trento che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo trovato un grandissimo gol con Matteo Rovar e complimenti a loro e complimenti a tutti noi. Si continua a non guardare la classifica? Assolutamente sì, è ancora lunga, mancano dieci partite. La classifica a noi non interessa, interessa il nostro percorso, il percorso di crescita, che ogni domenica, ogni mercoledì, ogni tre giorni dobbiamo mettere un tassello in più, oggi l'abbiamo messo e quindi a noi interessa solo quello e poi i conti si fanno alla fine.